Il ragionier Claudio Caligula, classe 64, matricola 25-14. Era un semplice impiegato del sessore vendite che aveva il pallino della meccanica. Ogni ritaglio di tempo, ogni ora di riposo del giorno e della notte, la passava nel suo piccolo laboratorio, dove fabbricava il ritmo febbrile di avolerie stranapalate e irrutti le arnesi, che finivano sistematicamente in soffitta. Per questo motivo erano da tutti considerato un retino. Alla prossima Comandato! Grazie a tutti.